Sono due anni che si produce molto poco ma fa parte anche della legge della natura sai, fa così, quest'anno non arriviamo a 50.000, sai c'è qualcuno che produce 30.000 bottiglie ora, noi ne facciamo 50 milioni un anno. E poi c'è una cosa, sai, importante, che quando sei così hai più libertà e non è poco, costa ma va la pena.